Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per il traffico intenso ci sono rallentamenti tra Valdichiana e Monte San Savino, code e attratti tra Firenze Nord, il vivo con la variante di Valico-Baccheraia e rallentamenti tra Aglio e Badia. Spostandoci in A12, rallentamenti tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Il traffico invece scorre in maniera regolare sulla FIPILI. Per quanto riguarda le statali, la 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, buon viaggio!